Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 per traffico intenso rallentamenti tra Incisaregello e Firenze Sud, tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPI lì per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sulla statale 2 via Cassia ha chiuso fino al 7 gennaio in entrambe le direzioni il tratto tra i chilometri 144.800 e 152.500 a Radicofani in provincia di Siena. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!